Buongiorno carissimo Franco, buongiorno amici dello spazio, vi saluto da Bruxelles, dalla Commissione Europea e sono lieto di essere con voi anche quest'anno allo Festival dello Spazio. Sono lieto perché quest'anno è un anno particolare e mi sembrava importante di essere con voi in Italia, anche in modo virtuale questa volta, perché c'è stata una crisi che continua, che è stata estremamente grave, con un impatto anche sulle attività spaziali e vorrei oggi un po' parlare della reazione a livello europeo per quanto riguarda questa crisi del coronavirus, evidentemente. Il coronavirus è una tragedia umana, tante persone ammalate, tante vittime della pandemia, dunque tutto questo molto severo, abbiamo visto l'impatto sui Stati membri, sulle popolazioni, una crisi sanitaria, però anche potenzialmente una crisi severa per il nostro settore, dell'aeronautica sicuramente e dello spazio, punto di interrogazione. Dunque per questo volevo un po' adesso parlare delle conseguenze per noi nel nostro settore. Chiaramente siamo in Europa, abbiamo in Europa qualche sistema spaziale operazionale, abbiamo Galileo, Copernicus e Ignos, dunque come hanno reagito questi sistemi operazionali. Sono, come sapete, infrastrutture critiche, devono funzionare anche in situazioni di crisi. Per questo motivo la prima priorità per noi è stata di assicurare la continuità dei servizi. Questa è stata la prima priorità e ci siamo riusciti, ci siamo riusciti con tutti i tre sistemi, con Galileo, anche con l'aiuto dell'Italia, per quanto riguarda il nostro centro di controllo a Fucino, in Abruzzo. Ci siamo riusciti per quanto riguarda Copernicus, anche con l'aiuto dell'ESA, soprattutto, e del centro per Copernicus a Frascati, l'ESRIN. E la stessa cosa per quanto riguarda EGNOS, che è il nostro programma che serve soprattutto nel settore dell'aviazione. E questo successo di mantenere i servizi anche in tempi di crisi, di difficoltà, è stato reso possibile perché ci siamo organizzati in una certa maniera, abbiamo fatto il necessario affinché gli operatori possano continuare a lavorare, rispettando le regole di distanziamento e di isolamento, evidentemente, e ci sono state tutta una serie di misure pratiche, concrete, che sono state prese nei vari posti a Fucino, a Frascati, e poi un po' dappertutto in Europa. Dunque, nessun impatto sulle operazioni. Ma, certamente, qualche impatto delle restrizioni del lockdown è il ralentamento di diverse attività, soprattutto anche industriali. Ma non solo che siamo riusciti a mantenere i servizi, abbiamo dovuto lavorare anche, abbiamo potuto assicurare che questi sistemi operazionali abbiano un impatto positivo, abbiano un contributo per combattere la crisi del coronavirus. Voglio citarne qualche esempio per dimostrare che soprattutto Copernicus e Galileo in questa fase sono stati utilissimi e sono stati dei esempi concreti che Copernicus e Galileo possono apportare un'utilità molto specifica in situazioni di emergenza. Abbiamo, per esempio, assistito ai importanti ingorghi all'interno dell'Unione Europea, a marzo soprattutto, poi ancora un po' in aprile, quando i paesi hanno iniziato a chiudere le frontiere. Col programma Copernicus sono stati fotografati i valichi di frontiera per permettere ai leader nazionali di prendere decisioni conseguenti. E poi, insieme all'Agenzia di Praga, la GSA, abbiamo potuto sviluppare una app, la Galileo Green Line App, che facilita la circolazione delle merci nell'Unione e che è stata progettata per essere utilizzata sia da parte delle autorità di controllo delle frontiere che dei conducenti di camion. Per le autorità di controllo delle frontiere, l'app fornisce una visualizzazione in tempo reale delle situazioni ai valichi di frontiera e aggiornamenti regolari sulla situazione del traffico. E per i conducenti, i camionisti, l'app fornisce la visualizzazione delle frontiere in tempo reale con una mappa a livello dell'Unione. E questa app sta riscontrando un ottimo successo tra gli operatori del settore, soprattutto quello dell'autotrasporto. Ma poi c'è stato anche un impatto della crisi sui effetti sull'ambiente e questo è stato di nuovo dimostrato, osservato con Copernicus. Con Copernicus abbiamo potuto capire meglio con le osservazioni le immagini del satellite P5 che mostrano ora come i livelli di inquinamento atmosferico sono crollati in Francia soprattutto e in Italia settentrionale. E poi abbiamo sviluppato insieme all'ESA un nuovo strumento che si chiama Rapid Action Coronavirus Earth Observation è uno strumento di azione rapida per l'osservazione della Terra e il monitoraggio del coronavirus sviluppato dalla Commissione insieme all'ESA e questa piattaforma utilizza dati satellitari di osservazione della Terra per misurare l'impatto delle misure di blocco deciso durante la crisi del coronavirus e monitorare la ripresa post blocco su scala locale, regionale e nazionale. E poi c'è stata una risposta dell'Europa per prendere misure economiche, finanziarie per rispondere alla crisi. E ovviamente c'è stato un impatto c'è un impatto importante della crisi del coronavirus sull'economia in Europa sull'industria europea. Dunque abbiamo messo abbiamo proposto un massiccio piano per la ripresa un piano che prevede un nuovo strumento finanziario da 750 miliardi che rafforzerà il bilancio dell'Unione Europea. Abbiamo poi anche un bilancio a medio termine dell'Unione rafforzato per il periodo del 2021 fino a 2027. Nell'ambito di questo budget a livello europeo prevediamo attualmente un budget per lo spazio di più o meno 16 miliardi d'euro il che corrisponde a un aumento notevole per quello che riguarda il periodo precedente. Tutto quello per confrontare la situazione della crisi. Però ci concentriamo non solo sul trattamento della crisi voglio anche sottolineare che l'implementazione dei nostri programmi spaziali va davanti e per quello che riguarda questo avanzamento ci voglio parlare di una cosa concreta che può interessare anche in una terra come la Liguria che è una terra mediterranea dove ci sono persone che fanno la vela ci sono maierinai ci sono persone che vanno in barca o in montagna e per i quali il nostro Search and Rescue Return Link può essere importante. Il Galileo Return Link Service consente alle persone in difficoltà di ricevere la conferma automatica della ricezione del loro segnale di emergenza e questo servizio è stato ufficialmente dichiarato operativo il 21 gennaio scorso. C'è questa nuova funzionalità il Return Link è attualmente offerta in modo univoco da Galileo e consente un collegamento di comunicazione che inoltre ha un Return Link Message al radiofaro di origine tramite il segnale di navigazione Galileo nello spazio e questo segnale Return Link può veramente fare la differenza Per qualcuno in difficoltà ricevere tal riconoscimento in poco più di 4 minuti fornerà un notevole impulso psicologico e ridurrà il panico consentendo allo stesso tempo all'equipaggio di soccorso di migliorare la logistica e la pianificazione a bordo della missione di salvataggio contribuendo così a salvare più vite E adesso il futuro Il futuro con una nuova commissione sotto la presidenza di Ursula von der Leyen con un nuovo commissario per lo spazio Thierry Breton che ha fatto un annuncio importante in una intervista recente e vorrei rapidamente percorrere 4-5 elementi di questo discorso Primo che il lancio della nuova generazione di satelliti per il sistema Galileo è stato anticipato a fine 2024 piuttosto che al 2027 dobbiamo accelerare e questo è il messaggio del mio commissario Secondo che l'Unione Europea utilizzerà per la prima volta parte del budget stanziato per le missioni spaziali per supportare lo sviluppo di missili riutilizzabili e di nuove tecnologie di lancio Anche questo atteso e secondo me molto rilevante per l'Europa nel futuro Terzo messaggio importante che l'Unione Europea proporrà l'istruzione di un fondo spaziale europeo da 1 miliardo di euro da destinare alle start-up del settore e so benissimo che anche in Liguria per esempio a Genova c'è una zona di start-up e questi start-up vogliamo proprio che possano beneficiare di questi fondi europei e quattro elemento importante l'intenzione di sviluppare un sistema di internet a banda larga satellitare come quello di Starlink ma anche una piattaforma per evitare collisioni con satelliti ed altri oggetti in orbita dunque cerchiamo di proprio creare un sistema spaziale sostenibile sostenibile protetto con le nostre risorse che vogliamo mettere e con questo voglio concludere ancora dicendo soltanto sottolineando che sono contentissimo di aver potuto contribuire con questo piccolo messaggio al vostro bellissimo festival e vi auguro un fine di settimana interessante con tante impressioni e tante nuove informazioni sul settore dello spazio vi saluto da Bruxelles grazie di avermi accontato grazie a tutti